Allora, di movita violenta chiaramente non parlerei, parlerei di episodi sicuramente isolati, ma non è che un episodio di un buttafuori eccetera si deve parlare di movita, se no si rischia di generalizzare e di fare chiaramente un vittimismo al contrario e di fare un piacere a queste persone, questi stolti che si vogliono fare pubblicità con queste cose violenti. E' totalmente da criminalizzare perché una sicurezza o un buttafuori deve prevenire, quindi prevenzione, in qualsiasi caso bisogna prevenire e non arrivare a quello che si è detto, si è visto e si è raccontato e questo è un dato. Per quanto riguarda altre cose ci vuole il controllo sul territorio, il controllo sul territorio chiaramente va fatto non solo dai vigili urbani, perché i vigili urbani chiaramente fanno più che altro, voi me lo insegnate, credo, spero almeno, il controllo sulla strada e altro, ma Carabinieri e tutte le altre forze di polizia. Quindi credo che a loro bisogna dire di fare una stretta, stesso stamani, ho raggiunto anche il sindaco telefonicamente, al quale direi prendere un tavolo di sicurezza con tutti gli agenti, tutte le forze di polizia affinché, voglio dire, perché Salerno è una città tranquilla, serena e noi non ci dimentichiamo qualche giorno fa quello che è successo in città molto più grandi e blasonate della nostra, dove si spara all'impazzata. Questa città, ringraziando Dio, gli episodi violenti di questo tipo Far West non accadono, è una città serena e quindi vi prego di non macchiare per alcune declarazioni di poche persone un'immagine di...